Bella a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video siamo sul canale di Papa e oggi andiamo avanti con l'ombra di Mordor ci stavamo fermati nella scorsa missione che avevamo appena comandato un comandante dominato un comandante qualcosa del genere e adesso dovevamo fare una missione riferita a lui io non l'avevo fatto semplicemente perchè voglio fare video un po' più corti ultimamente stava scendo anche qualcuno da più di 20 minuti e non mi piace ho sempre fatto un marchio di 14-15 minuti continuiamo così quindi, minchia il gatto già fa casino entriamo nel gioco, usciamo a menù di pausa usciamo a sto menù di pausa e partiamo subito con la missione eravamo già qui perchè come potete intuire lo sto facendo uno dopo l'altro gatto perchè devi far casino e qua altro tu c'è Goroth più il pischeletto sotto di lui che non mi ricordo mai se comandando uno comando anche gli altri o è uno di quelli che avevo già preso come dominato? l'ho già dominato gatto ti prego non far casino ma la gente è due in alto vabbè ordina sarà ma cosa devo fare? seleziona un bersaglio per creare una lotta per il potere ai suoi danni se avrai successo il tuo seguace marchiato potrai crescere il suo potere e niente da uccidiamo questo bro che brutto che sei quindi quello che devo fare è fare in modo che lui vinca ok rivolta di qua dov'è sta rivolta megoglioni eh ok ma cerchiamo non è problema gatto ti prego non far casino sempre non prendetele male consiglio non prendetele male non ho solo le parole io non so se voi sentite il casino che c'è sotto ma è il gatto eh ecco io spero che lo sentiate perché almeno non mi sento così solo con questa bestia che continua a far casino gatto cosa sembra che si sia messo lì proprio per farsi marchiare veramente eh? ah io non lo dico che si tratta per dire mi serviva facciamo sta missione dobbiamo fare in modo che vinca non penso sia una cosa così impossibile ah beh ma se solo curivo a fanculo ci mettiamo un minuto non sei all'altezza mia dei miei uruc e di là pure il conflitto fa casino che cazzo morirai per quel che hai detto amante degli uomini va bene ok vi uccido tutti per sicurezza allora non c'è più magari in qualche modo ce la fai vabbè dai vabbè però già così vi prego uccidetelo voi dai in ritirata? ma non dire cazzate va uccidetelo ah ok direi direi ma direi proprio cioè ti pare che poteva mai perdere? hanno trionfato indietro ok no ma non ci volevo marchiarlo che c'ero vabbè va bene così eh non ci da così tanto fastidio dai niente male forse vi siete veritati dacci qualcosa senza recupera sento velocità concentrazione con uccisione della turbin vabbè nel senso ok e cosa potrei fare? qualcosa c'è? torino è pronto affrontare passato ovvero il grande orco tipo scrittendo un'orcaforte per attirarlo scoperto siamo 4 minuti al massimo sarà un po' più lungo anche se ho detto che voglio fare un po' più corti vabbè la bestia che stai cacciando vicina ma io sto facendo nessuno i sassi raga i sassi in questo gioco su ho detto quanti tutte stesse che praticamente mi sto subendo per il culo da solo prova ma aiutano tantissimo cioè faresti scatti qui ma se devo fare il coro caricherà ma io ok ma quello devo fare basta che non ho ucciso nella terra che ho la tua palle uccidi io che in due 20 euro che in due minuti non ho il futuro e quindi io oh mio dio per fare, non mi ricordo. Quello lì in alto non esistrai più a breve. Non so se perdere tempo con questo conviene, però mettete già che siamo qua. Così non supererai mai la tua barbia. Vabbè, sentite, due minuti ce la dobbiamo fare. Questo però me lo prendo perché mi piace averne un in più. Basta che mi capisco con la fretta perché mi giro scoglioni. Ok. E acquisiamo informazioni su chiunque, non mi interessa. Vai. Congeta. Così anche tu sei mio. Benissimo. Poi c'è un arciere. E vabbè, sì. Se qui vogliono ucciderli, li uccidiamo. Poi che abbiamo qui? Eh, vabbè. Ma qua proprio una sfida, eh. C'è la sfida è provare a uccidere nemmeno di trenta in due minuti. Ah, dio mio. Perché devo fare sti cagati, ma non è un'altra. Siamo a sette, eh. Siamo a sette, eh. Undici. dodici. Puntto visita ho ottenuto bene, non mi fa ne male appunto vita. Quattordici. Però possiamo prendere, vede che comunque aiuta. No però mi da le frecce. Vabbè, quindici. raga non sono non sono così forti come pensavo devo andare in un posto dove c'è un po' più merda siamo a 15 16 17 18 un paio vabbè abbiamo fatto 19 non ditecazzate ok 9 se non mi girava ecco la fama che ma rinforzi che tu coglioni guardi il prego non si ma sono 30 quello problema no no aspetta ci diventa mio per sicurezza ehm ah due puntabilità e che cazzo stiamo facendo allora colpo ragazzo rapido io ci devo stare in esecuzione a terra subito scavasca vabbè spezzai pugnale spallata non esploderanno male colpo critico doppio vantaggia si ricordi pesate qua che mi prendo anche questo che uno in più aspettativo sull'esercito alla consiglio usa esplosioni consiglio usa attacchi a distanza vabbè allora se vogliamo proprio così bastava dire che doveva morire e moriva neanche capirà come si chiama forse devo usare anche le esplosioni cioè addio questo qua è voluto venire a morire ma credo io so tenere in vita un uomo per settimane prima che muoia quindi no voglio morire un po' di essere mio mi serve qualcuno che mi aiuta in questa sfida come così va diciamo che se riesco a ucciderlo diciamo che se riesco a ucciderlo non è male se no cosa vuole cosa vuole sto tizio lo vedete? è morto cosa è successo? ma non è vero che è morto? ma fa ma quello che ehm non è questo quello che sarebbe dovuto succedere io me lo prendo me lo faccio subito ma che cazzo è Se è diventato questo il comandante lo prendiamo Ma che cazzo Eh allora Ma non dice un cazzo Non posso farlo Non posso Devo per forza fare la missione Tronzata però raga eh E vabbè sentite prendiamoci anche questo qua Ehi Eh Vabbè diciamo questo video qua è Boh esplicativo Non lo so Sentite questo lo voglio Sei mio Così ne ho uno in più così vediamo Cosa fai? Eh Non sento che ci hai detto che pagliaccio Ascoltami Capiamoci Tu sei mio E su qua non ci piove più niente Oh E che cazzo Così c'è informazione su questo Vai Va bene Fungere via 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 OLE Se vuoi domani Pia OLE Cazzo Così 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 Per averne uno in più sapete Oddio mio OLE Non dovete non fermi le palli In questa fossa Mamma mia Avevo deciso qua In questo video Prendiamo Tutti quelli che possiamo Per il prossimo video Magari qualcuno mi dà una mano Magari qualcuno mi dà una mano Ho sempre paura di tutto Tu sei mio Tu sei mio Tu sei mio Ho visto qualcosa laggiù Aspettate Quello è da un capitano Sì Morte e disattori Sì Io devo quasi morire per questo babbacchione Ma veramente? Ma buttati giù F*** che babbo F*** che babbo Se voi se devo inseguirlo rischiano pure di morire Ecco ovviamente Che palle che siete laga Vi odio tutti tutti Vabbè sentite C'è un po' di casino va Ma quanti siete? C'è quanti? Io posso capire che Di orchi ce ne sono un bel po' Ma porca puttana Vieni qua Vieni qua Ovviamente neanche da tirarlo con la freccia Quanto deve essere babbacchione per non tirarlo Dove è andato? Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Quello se ne è andato Quindi facciamo così Tanta di quella merda qua Recupera il 7% assoluto Con un sussione da turmi Mica male Ovviamente Ovviamente Raga Ovviamente Cosa Maledio Senti Ehm Ci prendiamo questo o no Cazzo Recupera le due proiettili Pertutto l'uccisione in sella a un mostro Non mi faccio niente L'uccisione in sella a un mostro Eh vabbè raga Non so cosa dirvi Direi che Niente Questo video si conclude Non nel migliore dei modi Ma il tizio lì è stato ucciso Veramente in maniera Proprio in malomodo Cioè nessuno voleva ucciderlo Ecco perché Verde Versaglio ubicato a Andiamo qui Lo facciamo nel prossimo video Ragazzi Spero che il video di oggi vi sia piaciuto Come sempre Se vi è piaciuto Lasciate un mi piace Commentate Condividete E iscrivetevi al canale Che noi domani andiamo avanti No Questo fra tre giorni A uccidere un nuovo capitano Cioè A prendere un nuovo comandante Sperando di non ucciderlo Perché se no Che bella merda Ciao a tutti ragazzi E al prossimo video